Buonasera Formello, buonasera e benvenuti al quarto e ultimo appuntamento delle feste patronali 2023 San Lorenzo e San Prudenzio. Grande successo è stato per questa manifestazione che ho visto protagonisti su questo palco da Silvia Mesanotte e Carlo Marrale che ho avuto l'onore di presentare, poi il teatro di Andrea Perroni, l'allegria e il coinvolgimento del Dr. Vintage sulle mano, sulle mano, vi siete divertiti, lo so, fino a ieri sera all'emozionante concerto con orchestra d'archi di Ron. Doveroso fare alcuni ringraziamenti il comune di Formello, il sindaco Gianfilippo Santi, l'amministrazione comunale e l'assessore alla cultura Roberta Bellotti, la regione Lazio nella persona del vicepresidente del consiglio regionale Pino Cangemi, la banca BCC della provincia romana nella persona del presidente Mario Porcu, i carabinieri della stazione di Formello, la polizia locale, la croce rossa alla Proloco, il corpo di San Lazzaro, le guardie zoofile, la produzione Neobatic di Carlo Costanzo e il direttore artistico Marcello Cirillo. Noi siamo felici e onorati che Fausto Leali, che è come ben sapete la voce più black della musica italiana, faccia tappa questa sera qui a Formello in Piazza dei Giardini, in questa meravigliosa arena come l'ha definita ieri sera Ron. La data formellese di Fausto Leali rientra nel cartellone di questi eventi estivi messi a punto dal nostro direttore artistico e dall'amministrazione comunale ed è inserita nel tour che l'artista Lombardo sta tenendo in questa estate 2023 nelle più importanti piazze italiane. E allora prepariamoci ad ascoltare dal vivo alcuni dei suoi più grandi successi, da A Chi, Io amo, Io camminerò, Mi manchi, Deborah, Ti lascerò, con quel famoso trionfo nel 1989 e quel duetto meraviglioso con Anna Oxa. E quindi è arrivato il momento di volare con la musica, è arrivato il momento di volare con le ali, è arrivato il momento di volare con Fausto. Le ali accogliamolo con un grande applauso, buona serata! Grazie mille. Grazie. 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 Buonasera a tutti. Grazie di essere qui. Mi vuoto un po' sulla sinistra ma rifinisce. Alla destra c'è un casino di gente. Quindi dove vado? Alla destra o sinistra? A centro, beh quello è importantissimo, naturalmente. Grazie di essere qui. Sì, c'è c'è. Questa è una canzone che ho inciso, che ho fatto con l'amico Umberto Tozzi, un disco che ho fatto nel 2016 con Mina, Tozzi, Baglioni, De Gregori eccetera. Man mano che andiamo avanti ci sarà un brano che riguarda quel disco, vi dirò con chi l'ho fatto. Grazie. Grazie a tutti.